Buonasera a tutti. Il gruppo europeista ha accolto con responsabilità e serietà l'appello del Presidente Matarella. Quindi noi siamo disponibili a partecipare a questa esperienza di governo. Abbiamo parlato a lungo con il Presidente Draghi anche della questione delle minoranze degli italiani all'estero, della questione economica, della pandemia, dei vaccini, ma vorremmo dire due cose che per noi sono fondamentali. La prima è che il governo Draghi deve essere un governo politico. E la seconda è che sono state veramente molto incoraggianti e importanti almeno per noi, per il nostro gruppo, le parole che ha detto il Presidente Giuseppe Conte oggi in Piazza Colonna. Grazie.